a my plant and garden lo stand di granulati zandobbio gianni sottocorno la titolare di granulati zandobbio quali sono le novità che avete presentato in fiera quest'anno quest'anno presentiamo un passo giapponese che fa parte della nostra gamma l'altra pietra quindi grass porcelanato alta qualità per uso esterno un passo giapponese molto duttile un passo giapponese che è un prodotto indicato per la venta nel grande center per per poter realizzare ambienti che richiamano questa atmosfera magica dell'estremo oriente prodotti che possiamo avere disponibili in cinque tonalità diverse due tonalità imitazione legno e tre tonalità imitazione pietra sono questi prodotti che vediamo qui esposti per terra due tonalità legno più tonalità pietre varie è un prodotto che sicuramente avrà un ottimo successo in tutte le rivendite garden center d'italia prodotto di largo consumo basso costo utile che si vende facilmente e vi auguro di venirlo a comprare più presto grazie 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 a tutti